E' una Calabria sempre più presente al Vinitali di Verona, tradizionale Kermes dedicato al settore enologico, che ha preso il via nel capoluogo Veneto. Una Calabria con il suo ormai tradizionale spazio che cresce e vuole garantire nuove opportunità ai produttori. Devo dire che c'è una crescita di attenzione verso il vino calabrese, verso lo spazio che quest'anno abbiamo allargato all'interno del Vinitali, questa fiera importante e quest'anno c'è stata una crescita anche delle aziende presenti segno che c'è appunto una vitalità, c'è una crescita che è determinata anche dalla immissione di nuove energie in questo settore. Molti sono i giovani che stanno subentrando ai loro genitori, ma anche che stanno investendo in iniziative in direzione della produzione di vinicola. Sono segni importanti, ma soprattutto c'è un'espansione della nostra presenza sui mercati interni e internazionali. Ma appuntamenti come questi possono essere utili soprattutto per cercare di entrare nel mercato estero. Noi stiamo prestando molta attenzione ai mercati internazionali, anche e soprattutto agli Stati Uniti d'America. Noi abbiamo svolto una serie di iniziative mirate a New York, a Chicago, in diverse realtà degli Stati Uniti perché appunto quello è un mercato importante. Questa mattina abbiamo visto nel focus che è stato fatto che l'esportazione dei vini italiani è concentrata in cinque paesi. questa riprova che ancora c'è un grande spazio che bisogna utilizzare. La nostra regione c'è, con una presenza che è in crescita anche negli Stati Uniti.